Grazie a tutti gli artisti presenti alla mostra, non solo gli artisti premiati, ma veramente a tutti quanti che hanno contribuito a creare questa mostra, il clima che si è creato e anche alle sensazioni che tutti abbiamo avuto e che sono di positività e di futuro. La cosa mi interessa molto sottolineata, per cui veramente ringrazio tutti, è un premio speciale e un po' così di cuore, il mio personale. Ma la serata continua alla grande adesso con Vasco Mirandola e Marco Strano. Vi presento questi due artisti veramente eccezionali ed è per me anche veramente emozionante, sono veramente onorata di averli qui presenti. Vasco Mirandola è un attore di Badova, lo conoscete già, è conosciutissimo, è un attore di teatro, è un attore di cinema e ha attraversato anche vari linguaggi artistici. Mi fa piacere anche così con un pochino di orgoglio personale, ricordarvi che abbiamo fatto insieme, cioè lui ha fatto uno spettacolo, io insieme a lui, che si chiama, una testa piena di perfalle, scusate, veramente mi emoziona. In cui lui ha voluto portare sulla sua scena le mie opere ed è stato veramente un'esperienza importante e molto emozionante, ricca anche perché Vasco è un amico e c'è un grande film. In questa occasione ha voluto portare un primo step di un lavoro che sta preparando con i giovani poeti del nord-est. Il nord-est è un territorio trasformato in trasformazione e queste poesie parlano di questa trasformazione appunto.